ciao a tutti amici di androidblog.it ecco qui un sample video registrato con la fotocamera da 20.7 megapixel del sony xperia z2 in grado di catturare video in full hd andiamo subito a vedere oltre il solito giro classico una messa a fuoco automatica in queste condizioni ricordiamo che stiamo registrando il video tutto in modalità automatica visto che la fotocamera permette anche di registrare video in modalità manuale proviamo un un controsole e vedete i vari adattamenti della della luce anche uno zoom digitale fino a 4 per la qualità verde notevolmente ma è comunque accettabile anche se l'immagine non è molto ferma torniamo indietro un pan veloce è sempre il video registrato da sony xperia z2